La Sala del Circolo Unione di Barletta prima, l'auditorium pasquale a Timonelli e poi, nell'evento organizzato dalla Libreria Mondatori di Andrea, hanno dimostrato quanta attenzione riesca ad attrarre su di sé. Edda Negri Mussolini ha presentato nei giorni scorsi anche sul nostro territorio il suo libro Donna Rachele, mia nonna, la moglie di Benito Mussolini. Il libro, scritto in collaborazione con la giornalista Emma Moriconi, non ha la pretesa di rappresentare una geografia di Donna Rachele e tantomeno vuole essere una ricostruzione storica delle vicende della famiglia Mussolini prima, durante e dopo il fascismo. E invece il racconto che una nipote offre degli episodi significativi che ha vissuto con sua nonna, che per lei è stata anche una madre, visto che l'ha allevata dalla tenera età di quattro anni, quando Anna Maria Mussolini, ultimo genita di Benito e Rachele, perse la vita. E anche una travagliata storia d'amore, un racconto inedito di luoghi. A questo libro, alla sua autrice, alle numerose immagini inedite che propone, abbiamo dedicato un appuntamento speciale che andrà in onda questo pomeriggio alle 15, stasera alle 21 e in replica domenica alle 19.50.